Buongiorno e ben ritrovati, oggi andiamo a risolvere un altro esercizio con il BJT con doppio carico questa volta inserendo la RUC, quindi la resistenza di carico dopo il connessatore di uscita di accoppiamento e di disaccoppiamento e la RUE, quella di ieri abbiamo visto senza i due carichi possono esserci o uno dei due o tutte e due o non esserci, dipende un attimino dalle configurazioni qua i dati più o meno sono quasi simili, ho già messo comunque la RLE, che è la RE parallelo RUE, RLC, RC parallelo RUC e RB, R1 parallelo R2, così questi calcoli sono già fatti per prima cosa dobbiamo andare a vedere se HRE e HOE possono trascurabili oppure no quindi dobbiamo vedere, andare a verificare, punto 1, se RLC più RLE chiusa per HOE risulta minore di 0,1 quindi andiamo a vedere, abbiamo RLC 600 più RLE 150 per HOE che è 1 fratto 40K quindi per 1 fratto 40K andiamo a vedere quanto fa viene circa 0,02, quindi HRE trascurabile poi andiamo a vedere ma in genere l'HRE è sempre trascurabile comunque facciamo anche questo passaggio quindi se HRE per linea di frazione qua rimane RLC più RLE fratto RLE chiusa deve essere anche questo minore di 0,1 quindi andiamo a sostituire allora HRE abbiamo 10 alla meno 4 per allora RLC RLE quindi abbiamo 750 diviso 150 750 diviso 150 andiamo a vedere quanto fa 5 per 10 alla meno 4 che sicuramente è minore di 0,1 e quindi anche HRE è trascurabile bene, andiamo a disegnare il circuito a parametri H e poi procediamo con il calcolo dei guadagni e delle resistenze ecco qua il nostro circuito ovviamente rispetto al fatto di avere due parametri ma anche solo uno su HRE risulta molto più semplice da gestire allora per quanto riguarda in questo caso valgono parecchie approssimazioni quindi per quanto riguarda il guadagno di corrente AIC quindi IC fratto IB vada a sa che è uguale ad HFE e quindi sarà uguale in questo caso a 100 poi HIE essendo circa a parte il 1 che però è trascurabile rispetto a 100 essendo IE più o meno a meno IC abbiamo che l'HIE è circa uguale a meno HFE e quindi circa uguale a meno 100 quindi circa uguale qua poi per quanto riguarda resistenza di ingresso allora la resistenza di ingresso possiamo anche questa quindi la RI solo del BJT poi il resto abbiamo detto dobbiamo mettere RB in parallelo quindi questa qua è praticamente VB fratto IB quindi è circa HIE più HFE per RLE quindi sarà allora un K più 100 per RLE 150 quindi sarà 16 K R I' che è RB parallelo RI sarà 5 K parallelo a 16 K e quindi sarà 16 per 5 diviso 21 quindi 3,8 K K ok poi per quanto riguarda il guadagno di tensione allora A V prima la V C che è quindi uguale V C fratto V B allora andiamo a sostituire e a semplificare V C è uguale a meno HFE IB per RLC e V B è uguale a RI per IB quindi semplificando IB sopra e sotto ci viene meno linea di trazione al numeratore HFE RLC e al denominatore RI quindi questa meno 100 per RLC 600 fratto RI che è 16 K quindi sarà meno qua abbiamo meno 3,75 poi AVE quindi è VE fratto VB VE è un piccolo grande la stessa qua lo schiamo piccino allora questo anche questo si può fare un'approssimazione quindi possiamo fare VE circa uguale a HFE IB RLE fratto RIB e quindi andando poi a semplificare viene 1 meno HIE fratto RI 16 K quindi viene allora 1 meno 1 diviso 16 quindi viene circa 0 94 e sappiamo che col doppio carico la VE è sempre circa uguale a 1 leggermente più piccola non ci resta che fare le due resistenze cioè la resistenza ROC RO che ovviamente vista da qua e staccando questo tende all'infinito quindi è con in questo caso tende all'infinito e quindi ROC primo che è ROC parallelo RC circa uguale ad RC e quindi è uguale a RC era 1 K per quanto riguarda invece la ROE allora ROE sarà VE fratto IE ovviamente E è circa uguale a ok allora al numeratore semplificando abbiamo HI più RS' dove RS' è RS parallelo RB e sotto HFE più 1 quindi circa HFE più o meno anche questa approssimata viene circa così quindi qua non so se abbiamo già fatto RS' o no andiamo a fare RS' è uguale RS parallelo RB RS è 600 parallelo a 5K quindi 600 parallelo a 5K più o meno è 600 quindi sarà 600 per 536 536 ohm così e quindi qua andando a fare i calcoli avremo un K più 536 quindi sarebbe 1536 fratto HFE che qua è 100 e quindi mi viene 15,36 15,36 ohm che è la caratteristica della resistenza di uscita sull'emettitore che è sempre molto bassa bene con questo concluso spero di essere stata chiara così abbiamo visto anche il doppio carico con le due resistenze di carico effettive vi ricordo se avete piacere l'iscrizione al canale cliccando sul tasto iscriviti e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche ci vediamo domani l'iscrizione al canale l'iscrizione al canale l'iscrizione al canale